La regione è plena di innovazione, 5 le aziende regionali, una per la provincia. Maria Teresa Ladova. Un premio per mettere in luce 5 aziende laziali che si sono distinte per l'originalità dei prodotti e per la resilienza opposta alla crisi e la tenacia per perseguire e raggiungere il rilancio sul mercato. È riconoscimento Made in Lazio, assegnato con una cerimonia presso il Consiglio regionale all'azienda nautica Rizzar di Yacht di San Baudia, che è uscita da una fase di stallo con un nuovo modello, un open coupé planante dei 62 piedi. Alla Ica Foods International per il rilancio dello stabilimento di Pomezia dove si producono gli snacks Greek Rock salvando 150 posti di lavoro. Alla Ferrari Farm di Petrella Salto in provincia di Rieti per le avveniristiche coltivazioni idroponiche. Alla Panetti di Canino in provincia di Viterbo che produce occhiari in legno ma anche con innovativi materiali riciclati. Alla app Wine Listening ideata da Marco Iacobelli e Gabriele Cedrone rispettivamente di Sora e San Donato a Valcomino in provincia di Frosinone che abbina le caratteristiche di un vino ad un brano musicale per facilitarne la memoria delle caratteristiche. Attraverso la ricerca, l'innovazione, la determinazione si possono ottenere grandi risultati e stare sul mercato mondiale. La regione vuole affiancare queste aziende, vuole affiancare tutti coloro che ci mettono la faccia e ci mettono la propria determinazione. È l'impegno di questi anni e sarà l'impegno di tutti gli anni a seguire, snellire, spurocratizzare e essere al fianco delle imprese. presentata a Roma all'Istituto Luminense.